ciao ciao amici benvenuti bentornati qua sul mio canale sono il carletto e come sempre spero di regalarvi qualche recensione e farci qualche risata insieme allora oggi vi voglio far vedere praticamente una figura 15 20 anni e della toy beats come se toy beats si e ragazzi e un tempo si trovavano nei centri commerciali non costava neanche tanto ma veramente è notevole una di quelle figure che costavano poco e anche se sono passati un sacco di anni veramente è bella è bella adesso la vedrete nel dettaglio vi voglio far vedere adesso due o tre farò due o tre recensioni su più che altro due che ne valgono veramente la pena che secondo me il troll questo qua che è spettacolare e poi dopo ve ne farò vedere un altro che è spettacolare più anche della dola anche se un giocattolo vecchio di vent'anni poi vi farò vedere un po un insieme di prodotti sempre della toy beats sempre vecchi risalenti al signore degli anelli allora andiamo l'unboxare perché lui si muove praticamente gli inseriscono le pile vi faccio vedere che cosa fa lancia la palla la pietra con le catene è veramente carino e per avere vent'anni è veramente bello se lo trovate a poco prezzo siete amanti del signore degli anelli avete una vetrina del signore degli anelli il questo troll secondo me non può mancare è veramente bello ragazzi dai vediamolo bene 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 ragazzi vent'anni fa la toy beats fece questo troll guardate che secondo me è ancora bello oggi perché avevamo curato i minimi particolari allora partiamo dai piedi guardate come è fatto bene l'effetto dell'unghia e il dettaglio della pelle a vent'anni questo questo troll ragazzi adesso vi faccio vedere un po di cose guardate l'effetto qua guardate l'ombelico potevano risparmiarselo sono andati a farlo un bellico guardate il costumino cucito guardate che bello con tutte le catene con questo effetto ruggine i bottoni con l'effetto ruggine guardate qua il cinturone in pelle vedete il mutandino guardate il mutandino potevano tutte queste cose evitarsene si parla di vent'anni fa ragazzi guardate queste qua in cuoio guardate che belle i cinturoni plastica ma o cuoio quello che sia comunque rimovibili veramente belli fatti bene e con un sistema che adesso vi farò vedere per muovergli la parte delle catene passiamo e in più fa anche grazie alla pila che andiamo inserire sotto il piede fa anche una parte audio adesso vi farò vedere allora un difetto che però in questo caso a me piace perché sembra uno sfregiato vedete siccome c'è un silicone morbido sulla bocca perché si apre vedete si creano questi piccoli spacchettini perché quando noi andiamo a muovere il sistema delle catene lui fa un verso e apre la bocca ma guardate il dettaglio guardate qual dettaglio guardate si parla di vent'anni fa ragazzi guardate gli occhi dei troll guardate la parte dei denti veramente se si conta che ha vent'anni guardate qua e si alza il braccio lui apre anche la bocca per quello si creano e fa un verso si creano queste spaccature perché si va ad aprire la bocca e silicone ormai però guardate come secondo me è bello è veramente veramente secondo me bello fatto veramente bene a questa cosa qua che noi ai versi guardate mentre sia da una mano in un braccio che nell'altro guardate per essere di vent'anni fa ragazzi questo troll armored vuol dire con l'armatura guardate che ha l'elmetto secondo me è veramente veramente bello è mastodontico è imponente curato come vi ho fatto vedere in tutti i particolari e quindi se lo trovate questo è uno di quei prodotti che se siete amanti del signore degli anelli anche se è vecchio secondo me se si trova a buon prezzo ne vale la pena guardate molto molto bella a me mi è piaciuto ho dovuto per prendere questo ho dovuto prendere delle figure da Luca che però vi farò vedere in recensione perché questo qua lo volevo in vetrina volevo fare una scenetta con Gandalf poi un giorno vi farò vedere della mia collezione quindi questo lo volevo assolutamente vediamolo girare così lo vedete per intero eccolo qua ragazzi ecco qua il nostro troll ve lo devo far vedere girare per intero perché è mastodontico io ragazzi appena l'ho vista me ne sono innamorato di questo troll che anche se ha 20 anni ha la pecca di questo silicone che crea le crepe guardate anche solo i denti la gengiva gli occhi tutta la parte come è fatta bene le zampe i piedi con la colorazione delle di queste unghie bicolore belli a me è piaciuto un sacco veramente un sacco ho dovuto prendere altre figure da Luca perché se no non me la mollava giù però veramente mi è piaciuto ed in vetrina insieme ad altre figure del signore degli anelli fa veramente una bella scena perché è veramente massiccio possente e anche se ha 20 anni ragazzi non dimostra affatto l'età che ha perché questo troll è fatto secondo me veramente veramente bene lo so che nel collezionismo i gusti sono soggettivi ma a me è piaciuto in tutto è piaciuto veramente in tutto l'unica cosa come hanno messo lo silicone nella parte della faccia l'hanno fatta spettacolare dovevano andare a coprire un iconeo le due parti che muovono le catene però è veramente veramente bello bello a me è piaciuto è piaciuto un sacco adesso vi farò vedere anche Sauron perché Sauron è un'altra di quelle figure uscite 20 anni fa ma che con l'illuminazione agli occhi il mantello e tutto forse lo rendono a pari o più bello di una doll quindi sono figure alcune queste della Toy Beats che se si trovano a poco prezzo secondo me vanno prese se siamo ovviamente avanti del signore degli anelli e vogliamo fare in vetrina una scenetta riguardante un po' il signore degli anelli io lo metterò contro Gandalf a cavallo volevo fare una cosa un po' carina ovviamente con le doll un sesto la scala doveva essere un pochettino più grande però magari con doll un dodicesimo è perfetto ma effettivamente doveva essere un pelino più grande con la scala per le doll in scala un sesto comunque promosso sta promosso a me e lui mi è piaciuto appena l'ho visto l'ho dovuto prendere assolutamente dai andiamo a concludere inquietante inquietante ragazzi mamma mia ragazzi mi è piaciuto un sacco questo troll è della Toy Beats se lo trovate a poco prendetelo perché è veramente stracurato guardate anche qua il punto di giunzione l'anello che tiene le quattro catene queste catene fatte in color che danno proprio il senso di ruggine e questo era uno di quegli articoli lo trovavate dappertutto ragazzi nei negozi di giocattoli costava veramente una fesseria e veramente veramente bello io appena l'ho visto come già detto ho dovuto comprare un po di dol che comunque adesso di dol di figo più che altro che adesso vi farò vedere sempre dal mondo del signore degli anelli perché lui lo doveva avere mi piaceva troppo lo so che il condizionismo è soggettivo magari a voi mi fa cagare ma lui a me mi è piaciuto ed è stra promosso soprattutto per l'età che ha allora se vi è piaciuta l'accensore come dico sempre un bel like like lo vedete qua se poi mi volete seguire sempre attivate la campanellina in alto a destra e come dico se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Un saluto dal carletto, un saluto anche e vi invito anche a mettere un like dal troll alla prossima recensione. Iscrivetevi!